Nuove tecnologie per una maggiore sicurezza e connettività, in termini realizzati e rifiniti con cura artigianale, ancora più comfort e abitabilità. Il tutto associato a un superiore piacere di guida e a un motore V86002 più potente ed efficiente. Sono queste le novità essenziali della rinnovata Escalade, il SUV lussuoso che Cadillac ha presentato a New York. Si tratta della quarta generazione con la quale il brand del gruppo GM conta di consolidare la leadership nel segmento dei SUV di lusso. La produzione della Escalade 2015 scatterà la prossima primavera nella fabbrica texana di Arlington e la gamma si suddividerà tra le versioni standard ed ELV e tra trazione a 2 e 4 ruote motrici.